Amici 18. Raffaele a rischio esibizione.Stasera alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda il quinto appuntamento del serale di Amici 18, e, stando alle prime anticipazioni ci saranno numerosi colpi di scena Nello specifico il ballerino Raffaele potrebbe non gareggiare a causa di un infortunio avvenuto in settimana Inoltre, Maria De Filippi potrebbe leggere il nuovo regolamento per la parte finale del talent show di Canale 5 Inoltre ci saranno delle prove proibitive volute assolutamente dal maestro Beppe Vessicchio, dalla giurata Loredana Bertè e da alcuni professori, ad esempio Rudy Izzer vi ha messo in sfida Tisce Giordana L'infortunio di Raffaele.In queste ultime ore tutti i fan di Amici di Maria De Filippi si sono posti un interrogativo, Raffaele Quenedit stasera riuscirà ad esibirsi Il ballerino della squadra bianca, infatti, in questi giorni ha avuto un serio problema alla spalla facendo preoccupare tutti Non mi sento molto sicuro per questa contrattura. Mi sento insicuro anche perché ho perso la prova di sensualità con Vincenzo Ha confessato il ragazzo durante un confronto col coreografo Giuliano Peparini. A quel punto quest'ultimo ha replicato così Non ti preoccupare per questo, Raffaele. L'unica cosa di cui ti devi preoccupare è stare concentrato e ballare bene come stai già facendo Quindi nella puntata odierna il danzatore non rischierà di uscire da Amici 18. Amici 2019. Giuliano Peparini e i consigli a Raffaele Parlando con Giuliano Peparini, Raffaele gli ha confidato questo, . Io prima facevo solo variazioni di classico Ma al serale di Amici, sono cambiato.Il coreografo del talent show di Maria De Filippi ha replicato in questo modo Devi dire che hai ballato anche altre cose. Io non voglio che ti fermi qui e che ti metti nella condizione di non vivertela bene Io voglio che tu rimanga forte e se devi dire qualcosa che non ti piace, dillo. Senza problemi Grazie a tutti